Dico che ha portato un amico, una scuola che ha portato un'altra scuola e c'è il DAS ne ha portato quattro, quindi lega un applauso. Ringraziamo tutti che questa passione è decennata. Allora, quattro scuole amiche sono state invitate e hanno deciso di partecipare a questo evento considerato l'evento, insomma, di prima licenza. E' per fare del bene, perciò non c'è però molto volentieri. Io mi scuso che potevano esserci altre 100 opzioni su questa vista oggi che forse la parte della Staviglia non sono venuti. Patrizia Monti con i prossimi portolami. Purtroppo, questa sera una si è sentita male, l'altra una di fortuna di famiglia e non sono come essere presente. Magari ci sarà nella prossima volta, visto lo scopo di quello che è questa manifestazione. Grazie a tutti. Allora, noi vogliamo dire grazie a Claudio, grazie a Miranda e alla tua scuola, alla vostra scuola. Perché veramente questo è uno spirito in verna. Prima che tu hai provato e l'hai trasmesso tu con Miranda tutto il gruppo. Quindi tra una persona a un'altra, un'altra, un'altra ancora. Noi salutiamo alle scuole che per un motivo o per un altro non sono potuto essere presente. Ma il mio cuore c'è. Quindi ci sarà una prima occasione. Quindi grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti per la gran visitazione di oggi. E la pista del roma. Allora, il primo grado è sul mio remix. Mi fa dare. Mi fa dare. Sì, grazie. Sì. 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 E ragazzi vuoi aver rispito subito, non ti preoccupare che saluto un po' azzurro a me. Salvo che tu sarà la mia cosa, salvo che chiama la finestra, salvo che scrive, salvo che vive, salvo che sarà un giorno di festa, mai più. I feel, I feel, I feel the love. I feel, I feel, I feel, I feel, I feel. I feel, 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 I feel. La prossima scuola che si prepara per entrare in pista è la classe Academia di Green Dance. Bravi, complimenti, un applauso a questa scuola che sta a entrare, un grande applauso, un applauso. Un grande applauso.